Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org Dondolindo Ruotolo, pagina di autobiografia. I miei nervi mi hanno servito sempre bene. Di carattere io sono nervoso. Anche questa è un'eredità di famiglia. In casa siamo tutti nervosi. Riesco però a rimanere calmo quasi sempre, salvo moti imprevisti o primi primi dei quali mi umilio innanzi a Dio profondamente. I miei nervi mi hanno servito abbastanza bene, perché quando è stato necessario per la gloria di Dio, per combattere il male, mi hanno giovato. E in generale però, sono sempre calmo, fino al punto da farmi cambiare per un carattere flemmatico. Confesso che ho dovuto molto lottare col mio carattere. Quello che risveglia i miei nervi al diapason acuto è l'offesa di Dio, la menzogna, la slealtà, l'ingiustizia, la sopraffazione degli altri, l'abuso della forza e del potere. Sono dolente assai di avere qualche volta in passato menato anche le mani. Dio mi perdoni. In generale ho per abitudine di tacere quando sento il sistema nervoso urtato, ma se necessario per la gloria di Dio, esso mi giova per manifestare forza ed energia. La mia natura è tanto contraria alla sopraffazione, ed il Signore ha voluto che per suo amore fosse sempre sopraffatto. Come ho detto già, ho il cuore duro, ma mi inteneriscono i dolori del prossimo, alle volte sino al pianto, quando considero Gesù sofferente nel prossimo. Nessuno da piccolo mi insegnò la carità verso i poveri e la praticai a poco. Una volta sola avevo in serbo circa una lira e mezza e la diedi tutta ad un povero. Avevo allora circa sette anni. Sono piuttosto avaro, di indole, ristretto, spilorcio, ma Gesù mi ha fatto dare sempre con abbondanza, benché anche senza esagerazione. Ho dato abbondantemente quando sentivo di essere strumento della providenza di Dio o quando volevo fare nascere in un cuore un atto di riconoscenza a Lui solo. Per questo ho dato ed ho sempre in nome di Gesù sacramentato. Le esagerazioni non mi piacciono mai, neppure nel bene, e le abborro. Mi piace la sobrietà in tutto e la via di mezzo. La mia vita è una quaresima continua. Ci tengo molto poco al cibo e faccio una quaresima continua. Il mio cibo consiste in questo. Al mattino latte e caffè, perché me lo danno per forza. Prima non prendevo nulla, e quando esco per impegni e mi ritiro tardi non piglio nulla. Verso l'una un piatto caldo. Un'altra cosetta come erbe o latticini ed acqua senza vino. La sera verso tardi prendo poche once di pane ed un poco d'acqua. Mangio tutto e riguardo, come grazia di Dio, una cosa che mi disgusta. Non amo essere notato. Quando ero a Roma soffrivo molto a mangiare quello che passavano i frati, mattina e sera. Ma mangiavo tutto per non farmi notare ed offrivo Gesù la grande penitenza, che per me era il mangiare tutto, in riparazione dei peccati di gola. Pur mangiando così limitatamente e lavorando molto, già che non sto mai in ozio, non sento bisogno di altro cibo. Non sto mai in ozio. Ma se la carità, la convenienza, la necessità di non rendersi gravoso agli altri lo richiede, rimango in conversazione. Scherzo, rido, benché internamente si era accolto a fare atti di offerta al Signore. Tutta questa vita interiore mi deriva da Gesù e sembra mia indole, mio carattere, mia abitudine, ma non lo è. Io sono come avvolto dalla fiamma di Dio, di Gesù. Eppure essendo ferro, pieno di ruggine, in quel fuoco sembro fuoco pure io. Dormo in media sei ore al giorno. Dormo con calma e non ricordo quasi mai di aver passato una notte insonne, neppure nelle grandi agonie dell'anima mia. Oggi c'è radioromalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org www.radioromalibera.org www.radioromalibera.org